buongiorno a tutti oggi andremo a vedere quali sono i diversi fattori che influenzano il profilo sensoriale delle carni bovine cominciamo ad elencarli questi fattori il sesso e l'età l'alimentazione l'allevamento quindi la tipologia di stabilazione sono determinanti quello che è il bocchè organolettico delle carni quindi gusto tatto aroma profumi anche sono determinanti da questi fattori che vi ho elencato cominciamo con il dimorfismo sessuale quindi la differenza tra un maschio e una femmina solitamente queste ultime predispongono più grasso rispetto al maschio diciamo che sono predisposte a produrre ad anticipare il processo di lipogenesi quindi ad avere più grasso in maniera anticipata quel grasso che ricopre la carcassa che si può togliere in fase di rifilatura durante i processi di lavorazione e il grasso di infiltrazione che sicuramente è maggiore rispetto ai maschi il grasso di infiltrazione il grasso che sta all'interno del muscolo che non si può togliere durante le fasi di lavorazione ma è un cosiddetto grasso buono è il grasso che mi va a sviluppare quello che è il profilo e quindi il bocchè organolettico delle carni quello che durante la cottura si scioglie e sprigiona una complessità aromatica che è meravigliosa quindi le femmine tendono ad avere più grasso rispetto ai maschi perché perché le femmine sono più precoci questo significa che anticipano per prime il processo di maturità sessuale un'altra distinzione è sicuramente l'età animali che hanno un'età avanzata quindi possiamo dire anche un animale di 3-4 anni avranno un gusto più pieno sicuramente quindi dei gusti un'intensità olfattiva più marcata e quindi una complessità aromatica più marcata ma avranno anche una differenza per quanto riguarda la tenerezza la tenerezza che cosa vuol dire significa che nel processo e nel ruolo della tenerezza chi svolge una funzione maggiore rispetto al grasso è sicuramente il tessuto connettivo perché negli animali adulti il tessuto connettivo ha meno solubilità rispetto ad esempio ad un vitello di 4 5 6 mesi d'età che anch'esso ha il tessuto connettivo però il tessuto connettivo risulta essere più solubile quindi un'altra distinzione sicuramente l'età animali più giovani sono più teneri e hanno anche una complessità aromatica inferiore rispetto ad un animale adulto che magari hanno una complessità più importante e però risultano essere più tenaci in fase di masticazione un'altra cosa molto importante che differenza all'età è sicuramente il contenuto di mioglobina quindi la proteina che conferisce il colore alle carni una metalloproteina che contiene il ferro ecco carni che arrivano da animali in età avanzata avranno una maggior concentrazione di mioglobina quindi un maggior una maggior migrazione di ferro questo determina chiaramente una intensità di colorazione più importante quindi una maggior intensità di rosso carni più scure più rosso oserei dire quasi un rosso amaranto se prendiamo ad esempio un bue di 7 anni avrà un colore rosso amaranto rispetto ad un vitellone di 20 22 mesi che risulterà essere un rosso un rosso più brillante quindi l'età influisce sulla concentrazione di mioglobina una cosa molto importante anche la differenza sicuramente nel contenuto di mioglobina non è data solamente dall'età ma è data anche dalla tipologia di allevamento che cosa vuol dire significa quanto ha camminato il nostro animale o meglio quanta attività di locomozione ha espresso il muscolo in vivo quindi se l'animale ha camminato per tutto il ciclo produttivo chiaramente avrà una maggior concentrazione di mioglobina a livello muscolare rispetto invece ad un animale che ha camminato poco o che magari ha avuto un altro sistema di allevamento queste carni che hanno un'intensità di rosso più marcata provengono da animali che hanno camminato e diciamo che la maggior concentrazione si enuncia nei muscoli ad attività motoria pronunciata quindi i muscoli della spalla i muscoli della coscia che sono i muscoli di riferimento per quanto riguarda invece un animale che è stato abbastanza tranquillo durante il ciclo produttivo quindi non si è mai mosso o che se ne è rimasto all'interno del box tranquillo in un sistema di allevamento convenzionale quindi un allevamento definito confinato protetto non ha avuto modo di fare lunghe passeggiate mettiamola così e quindi il muscolo non avrà una concentrazione di mioglobina intensa avrà una colorazione normale quindi risulterà di essere un colore rosso brillante piuttosto che un animale invece che si è mosso quindi la tipologia di allevamento differenzia la concentrazione di mioglobina certo perché in funzione al tipo di allevamento avrà una differenza di colore rosso sulle carni ma anche del grasso attenzione perché l'alimentazione è anch'essa un fattore determinante se noi andiamo a vedere le diete prettamente cerealicole quindi con un'alta densità energetica quindi amilacea saranno diciamo delle diete tipiche diciamo degli allevamenti protetti e confinati in cui appunto si ha l'obiettivo di massimizzare quella che è la resa e sviluppare la massa muscolare andranno a produrre delle carni sicuramente come dicevo in precedenza non particolarmente rosso scuro ma un altro risultato importante sarà dovuto al grasso molto importante col grasso di copertura che risulterà essere bianco bianco perla nel caso delle carni che provengono da animali che hanno un'alimentazione prevalentemente cerealicola e nel caso invece degli animali che arrivano da dal pascolo quindi che si sono nutriti da un'alimentazione prevalentemente fibrosa quindi con i foraggi beh lì avremmo non solo una maggior concentrazione di mioglobina perché chiaramente l'animale si è mosso in vita quindi ha esercitato attività motoria ma anche avremmo una maggior concentrazione di vitamina e che si ricava dai foraggi una maggior concentrazione di beta caroteni quindi di coloranti naturali come le xantofille la provitamina a la vitamina e che sono fondamentali che non solo determinano una maggior intensità di colore rosso ma anche una maggior stabilità di colore ma anche delle sintesi lipidiche più accentuate quindi il grasso non sarà bianco non somiglierà ai grassi che arrivano da animali appunto che si sono alimentati in maniera diciamo prevalentemente cerelicola ma il grasso apparirà di colore giallo e pensate che il consumatore oggigiorno predilige gli animali che hanno avuto un certo stile di vita che hanno avuto un certo benessere animale ma pensate un po' quando mostriamo al nostro consumatore le carni provenienti da questo sistema di allevamento quindi che hanno pascolato che si sono nutriti prevalentemente di fibra quindi di foraggi molto spesso il consumatore predilige le carni che hanno un colore rosso brillante che hanno un chiaro diciamo di colorazione del grasso quindi voglio dire non spaventiamoci se vediamo una colorazione più rossa nella carne o se vediamo un grasso che non è bianco cioè un grasso che tende al giallo perché quel grasso giallo è sintesi di un'alimentazione prevalentemente fibrosa quindi del pascolo è indice di un maggior contenuto di vitamina e di beta caroteni di provitamina a e quindi questo diciamo è poi determinante il profilo sensoriale che sentori avranno queste carni solitamente le carni che arrivano da dal pascolo avranno sentori erbacei note metalliche dovute dall'alta concentrazione di mioglobina quindi dal ferro che si è staccato anche dalla mioglobina e quindi questo denota un sentore di metallico di ferro di note erbacee che si possono sentire sia crudo che a cotto per quanto riguarda invece le note organolettiche che si percepiscono negli animali che arrivano da un allevamento convenzionale invece quindi protetto e confinato avranno delle note più dolci avranno delle note più tenui quasi evanescenti ma comunque buone non si avranno il sentore erbaceo ma si avrà il sentore del miele che arriva dal grasso il sentore cerealicolo il sentore dolce e lieve a a a a a Grazie a tutti